Che è? Che fai? Mi sa che ho preso una spicola! Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Bazzio, con Garibaldi. Finalmente sono tornato a pescare in scogliera, era da tanto che non venivo. C'è un po' di maretta, non è tanta, dovrebbe salire più tardi. Questa è una tocca. Bello! Bello, bel pesce. Bel pesce. Non so cosa sia. Ho un finale del 12, una model 16. Sembra un sarago. Sembra. Ah no! Quella signora occhiata. È strano. Un grosso di peso. Bella. Una bell'occhiata. Ragazzi un pizzuto! Bellissimo! Bellissimo! Non ho ripreso perché non me l'aspettavo. Ci ho messo poco a toglierlo. Bellissimo! Stupendo! È un galleggiante da 3 grammi. È una lenza che magari dopo vi farò vedere, comunque è sempre classica. però con un bulto molto pronunciato. Anche Simone è incannato ora. Saraghetto. L'acqua troppo chiara. I pesci non rispondono. Anche unoange. Ok, la tua. Grazie Magari Tirano in modo strano oggi Boh sono strane Che è? Un tordo? Un ghiuzzo gigante Un ghiuzzo gigante Dove taggare Fishing and biodiversity enorme Bellissimo Però mi sa che ha le uova Perché ha la pancia gigante Simo Bellissimo C'ha le uova forse E la è la pancia che ha Dove ti dico? Bello Ma lo rilascio E' bello Che è? Che è? Go pai mi sa che ho preso una spicola Go pai Go pai Una spigola Cazzo è anche bella Sì Per guadinarla Sì Va bene la spicola Una bella spicola Oh Ma che bella no? Sì Ma è una spicola? Sì 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 Cazzo Cazzo Sì 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 Vai Una bella spigola Bigattino in scogliera Guarda con un palazzetto Guarda Che cazzo è? E questa è la più osservata di Kamen Ragazzi stupendo Bellissimo Quanto sarà? Già arriva mezzattina Quattro etti dai Bella Sono contento Che culo Porca miseria Oggi abbiamo preso di tutto Tutto Tutte le specie che si possono prendere nel Mediterraneo Si Sì Sì, sì. Non so cosa sia, non so cosa sia, un'occhiata, 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 l'ho presa 30 metri di distanza, quando l'acqua è chiara stanno lontane Comunque oggi poche, tutte belle però poche Vero? Tutte belle però poche Vediamo se ora col tramonto sia vicino a qualche sarago ribelle Grazie a tutti Grazie a tutti Un'altra bella occhiata Big Oh, tagliato Ragazzi la pescata è finita, vi faccio vedere un attimo la lenza Un'alleggiante da 3 grammi e una lenza ad aprirsi con un bulk con 8 pallini e poi una spallinata a degradare all'incirca 70-80 cm E un finale più o meno della stessa misura con una model 16 o del 14 Mi sono divertito parecchio, abbiamo preso un sacco di specie Ghiozzi, tordi, occhiate, saraghi, un pizzuto, saraghi maggiori, una spigola E quindi niente, ci siamo divertiti Vi ricordo di lasciare un like Di commentare, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi